Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max e qui abbiamo una storia di curiosità che fa scalpore perché quante volte abbiamo sentito di coppie con una differenza di età veramente abissale. Tipo, in questo caso, ma se lui ha 71 anni e lei 23, ma secondo voi è una cosa normale o qualcosa bolle in pentola? Ebbene, ve lo devo per forza raccontare, la giovane che quindi ha 23 anni ha detto di essere fidanzata da due anni con un meraviglioso 71enne di 48 anni più grande di lei. Ma lei lo ama, lo tiene davvero molto a lui e alla loro unione. E la longevità dei suoi genitori che entrambi hanno superato i 90 anni? Beh, può far ben sperare, no? Cioè il 71enne potrebbe arrivare a 81enne, 91enne, più di 20 anni ancora davanti a sé. Ma ha deciso di sposarlo per questo? Ebbene sì, e senza la necessità di avere figli dal momento che la loro unione le piace così. Non vuole correre il rischio di alterarla. Ma in ogni caso le preoccupazioni sono dietro l'angolo. Sì, c'è preoccupazione, cioè è una storia un po' strana, no? In un certo senso. Ma infatti anche lei stessa si sente preoccupata. Infatti sul web scrive la madre di lui ha il morbo di Alzheimer ed è molto fragile. Questo mi porta a pensare che arriverà il momento nella vita del mio marito in cui anche lui avrà bisogno di molte cure. Suo padre non ha particolari problemi ma ha avuto un ictus. Il mio fidanzato non ha figli, dunque sarei l'unica a dovermi occupare di lui quando sarà più vecchio. Ma come farò? Specialmente avendo un lavoro e una carriera davanti. È strano pianificare la fine di un matrimonio ma penso davvero di voler viverci dieci o vent'anni di amore con lui anziché perderlo per sempre ora rinunciando a sposarlo. Voglio solo assicurarmi di essere in grado di potermi occupare di lui anche quando arriveranno i momenti difficili. Apriti cielo. Sono subito cadute giù a go go opinioni che sono arrivati insomma da tutti i pori dal mondo del web che sono contrastanti però. c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Infatti molti dicono che se è davvero innamorata beh dovrebbe sposarlo. Altri le dicono che butterebbe via i migliori anni della sua vita. Per forza di cose bisognerebbe rifletterci un attimino. Qualcuno dice stai accettando di diventare la sua badante non sua moglie. Non autosabotarti così meriti di meglio. Non sprecare la tua vita diventando una serva. È un'idea orribile. E un altro. Questa unione ti danneggerà per il resto della vita. Devi stare a sentire altre donne che hanno fatto la tua stessa scelta che magari adesso sono semplicemente tristi perché sono delle badanti 24 ore su 24 e che non ce la fanno più da sole tra lo stress, gli impegni e tante altre cose che ci sono nella vita. Ma altri utenti, quelli sapete dall'altro canto, no? L'hanno incoraggiata dicendo io, quindi situazioni personali che si sono verificate molto simili a questa, io ho amato tantissimo mio marito e se tornassi indietro, sapendo che non sposandolo avrei perso anni di felicità, rifarei tutto con ancora più convinzione. Prenditi la tua felicità. Se lo ami l'età non sarà una barriera. Non lo è stato certamente per me e non lo sarà se vuoi per te. E questa è una sorta di consiglio che vedremo se avrà recepito, anzi speriamo. Allora questo è tutto, non so cosa ne pensate voi a riguardo, potete scriverlo qui sotto nei commenti. Nel frattempo per questa storia di curiosità è tutto, io vi ringrazio ve l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima.